Ciao, ciao, oggi sto cotendo dei piaceri, delle ortiche. Oh, che cos'è questo aggeccio, ha l'apparenza piuttosto strano, ti chiamerò porta urtica, ecco qua. Oh, sembra proprio che le ortiche abbiano fatto uscire. Le ortiche mi fanno tornare in mente momenti felici. Ah, popoloni. Oh, ciao. Hai scelto un'ora piuttosto guarda per farmi visita. Hai un nome? Secondo me, ti chiami M4Cubicle. Beh, perché non entri? Potresti metterti seduto e far riposare quelle gambe stanche. Ti posso dare una mano se ti senti affaticato. M4Cubicle. È abbastanza comodo. Per caso vorresti un bicchiere di latte caldo? M4Cubicle. 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 M4Cubicle.